Un pozzetto aperto sta allarmando gli abitanti di via Antonio Maria Claria Dragona. I residenti temono che un bambino o un anziano possano finirci dentro. Anni fa il tombino è stato semplicemente transennato, ma ad oggi i nastri sono completamente divelti e l'aria necessita di un intervento urgente e di messa in sicurezza. Mi preoccupa perché lì c'è stata una fossa che butta via l'acqua. Quando piove questa va a finire là dentro, se l'ha in tasa e c'è casca qualcuno là dentro o non mi ha piaggiato la fossa. Quello che l'ha trovato la soluzione per i fagli fa perché hanno sfasciato tutto. Sono salubbato prima quello che c'era, zingato, fatto come se deve nel 60 e quanto è stato. Poi ecco là, ora stiamo così. Ho fatto presente pure alla polizia, i vigili stavano qua e gli ho fatto vedere. Cioè vabbè, ora chiameremo qualcuno, vedremo un po'. C'è una competenza nostra? E di chi è competenza? Qualcuno la provi di... Dimenticato proprio da tutti, in un angolo ci parcheggia, non rimane così, ma non è mai stata risolta la cosa. Insomma, è uno dei tanti che gira per Dragona poi. Uno dei tanti, quindi non è l'unica situazione? Ce n'è stato un altro qua inizio che è coperto, c'è proprio una buca, si alza sempre quando piove. È abbastanza pericoloso, insomma. Di qualcuno, ovviamente, potrebbe finirci dentro, soprattutto al calare del sole. Insomma, voi magari conosciete la zona, quindi lo sapete. Pericoloso, ma pure per un bambino, una qualsiasi cosa. Anche perché poi c'è stato il prato, se uno passeggia con cane, una cosa, quasi è un problema. Però, dico, c'è una cosa dei tanti che è dimenticata proprio su Dragona. Cioè Dragona è dimenticata, i tombini, la mondezza, tutto. Il totale abbandono della strada è evidente non solo per quanto riguarda il pozzetto aperto, ma per i rifiuti accatastati vicino ai Mastelli e Marimossi. Un danno enorme anche per le vicine attività commerciali. Sarebbe avacciata di un ristorante. Questa attività nostra, noi lavoriamo qua, no? Sarebbe fatta la raccolta differenziata, i secchioni nuovi. E da che hanno messo i secchioni nuovi, non passano più. Certo, per voi che avete un'attività commerciale non è il massimo, oltretutto un ristorante? Noi all'incirca, se vai a vedere, poi è tutto registrato, noi facciamo 3-4 telefonate al giorno. Ah, sì? Sì, sì, a lama. E abbiamo perso la speranza che comunque non passano. E se l'emergenza rifiuti riguarda ogni quartiere, in via Antonio Maria Clarea Dragona esiste da anni un problema che non può certamente essere ancora rimandato. Il pozzetto va chiuso con urgenza, prima che un bambino possa farsi seriamente male.